arte di cichi ciao bambini oggi facciamo una camera da letto iniziamo a disegnare un rettangolo grande e un altro più piccolo all'interno per il letto crea un altro rettangolo con una coperta sopra il nostro letto ha bisogno di gambe no facciamole faremo due cuscini per il letto e dei cassetti per il comodino dovrai disegnare due piccoli rettangoli attaccati al letto e due più piccoli per la maniglia facciamo una lampada e un vaso sopra il comodino sull'altro comodino disegniamo una lampada e una tazza di caffè abbiamo bisogno di una foto sopra al nostro letto non è vero facciamola la nostra camera da letto è pronta ora coloriamola colora di verde le montagne le foglie e cuscini ti stai divertendo colora di rosa i lati dei comodini giallo per la lampada dentro il cassetto la coperta e il sole usiamo il rosso per colorare la parte posteriore del nostro letto e il viola per il rettangolo sottostante e il bordo della nostra immagine colora di blu le maniglie dei cassetti e la lampada ci siamo quasi usiamo un verde acqua per la nostra tazza di caffè e per il vaso coloriamo il cielo e il fondo del nostro letto di celeste e abbiamo finito è stato divertente no iscriviti per vedere altri video arte di cichi grazie 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 grazie